Tabaccheria Cellammare Marco, Litorania Salentina, Leporano, nel centro commerciale Santo Mai. I servizi che vi offriamo. Servizio Speed, bonifici bancari, pagamento MAV, comprese tasse universitarie. Servizio Banca 5, ricariche, poste pay. Punto vendita autorizzato Viva Ticket, punto vendita autorizzato Obabaluba. Biglietteria a partite di calcio. Taranto, Inter. Roma, Bologna, Torino, Benevento ed altre. Rivendita autorizzata abbonamenti e biglietteria AMAT CTP. Ferrovie Sud-Est, punto Corner SNAI, scommesse sportive. Giochi, Sisal, Lotto, 10 e Lotto. Emissione carte prepagate. Lottomatic Card, Sisal Pay, Banca 5. Emissione codici acquisto. PlayStation, Netflix, Zalando, Amazon, Google, Potify. Rivenditore Sigari Abanos. Rivenditore Sigari Toscano. Icos Partner con assistenza e ricambi. Aperto tutti i giorni dell'anno, dalle ore 7.30 alle 24. Professionalità e cortesia al servizio del cliente. Tabaccheria Cellammare Marco vi aspetta. Grazie a tutti. Gunther